Benvenuti ragazzi del mostro KanoGames e adesso si stava scappolando non faremo più rischia il gusto perchè non lo troviamo dai nessuna parte ma se iniziamo il video mi sconcio e adesso faremo occhia la mano oh mi sto uccidendo occhia la mano del resto ragazzi Aldo e ok siamo ritornati adesso appicceremo appicceremo vabbiamo italiana a me a me vai a me no 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 ordinatore biscuits ma sei cazzino me 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 solo me solo me solo me vediamo fare lo dir fare dire 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 no no fare fare come lo si diamo ti amo trova una parola che faccia rima con I nomi di ciascun giocatore Ehi tutti i giocatori del mondo No i giocatori tuoi I giocatori del gioco Quindi sei solo tu Aldigno Paoligno Guardi ma il mio nome è Aldo Aldo Aspetta Aldo uscite Non lo so Non lo so penitenza Fai un agroplanino di carta e parole Basta io non lo voglio fare facciamo dire Ok No Allora live Ma perché così occhio alla mano Oddio Com'è oddio Adesso riesci di ruotati Adesso è un buon Dai chi va Vai 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 No no Che fai Che stai qua Eh no Il magnole Ti la facciamo a me Ti la facciamo a me Vai Oh Fare il tiro Dile Dile Salto Dile Se dovessi andare Fatti vedere Se dovessi andare su un'isola deserta Quale degli altri giocatori porteressi con te Aldigno E' lui Siamo solo noi No vabbè ma a parte Anche se c'era Tommaso Sì sì Molte Tommaso ricordate Ah lui è Bomber Ma l'ha fatto partito Aiuto E lui scelto Stai soffocando Aiutatemi Aiutatemi Maniaco E dai vieni da me Per favore Non mi tradire Eeeh Tommaso Diretela anche voi Stavo a leggere Farò dire Vediamo 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 Cosa scegli Eeeh Farò Farò Fai finta di essere un cano Un cane Che rosicchia un osso Fatti vedere Hai il culo Il culo Che rosicchia l'osso Non il culo Oddio Ok basta Bastante Può bastante Vai Previ Tommaso Questa mano mi odi Fatti Fatti vedere Matisse 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 Tommaso Stai 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 Non ci voglio più bene Vai Fare o dire 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 Ma hai accusato Di proposito Qualcuno Per una cosa Che in realtà Avevi fatto tu Sì No Toscura Non ha Una cosa Una cosa Stai Non è Stai 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 Adesso mi faccio uno serio su questo serio Adesso io mi sfido qui Sto così guarda Sto così che tremo Si fa questo E' certe volte che esce la puzza Ma una volta io Mi hanno messo questo giusto Mi faccio così Una perma tanto lunga Chi è stato? No a me è stato prima Poi ti sentivo una puzza Adesso di me Ma non sono stato Non sono stato prima Ho accusato uno porco Un porco che mangiava sempre nei passi Però non faceva bene Vai faccia vai Tieni E vai Tattaradatta Fai lo dire Fare 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 Canticchia la sigla di un programma Televisivo Per Per far indovinare i dati dei tuoi parrucchi No una sigla Un cartone Un film Un film televisivo Ragazzi Aldo non sa come Non so niente Una sigla Una sigla Ragazzi Aspettate ragazzi Ok stiamo ritornando Attenzione Rosalella mi sta a parlare Vuoi andare alla penitenza? Saluta con rispetto Ognuno degli altri giocatori Ciao Buonasera Con rispetto Con rispetto Buonasera Mi chiamo Buonasera Mi chiamo E' serio? Buonasera Ma vedi che perdiamo tempo Buonasera Buonasera Io mi chiamo Sì Allora Facciamo vita che io sono il cameriere Buonasera Vuoi interdinare qualcosa? Oh sei scemo Ok vai ho finito Saluta Ciao Vabbè ciao 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 cosa stai? Ok Grazie amica Ti ricordi di me? Si ricordi Quasi 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 Si 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 Faccio dire Eh dire Dire Facciamo un ultimo E poi basta A quale degli altri giocatori Indifferenzi di due soldi Eh non ho capito Non li facciamo fare Ok Fingiti arrabbiato per 30 secondi Ti odio Ti odio Ti odio Senza picchiarmi Mi vorrebbe di Prendere un coltello e taggerti la testa E' meglio che inizi da correre altrimenti Ti odio Si Anche questa challenge Si è conclusa Con Aldo Se mettete Altri mi piace Altri mi piace E iscriviti E iscriviti Perché 15 iscritti Grazie mille Per i 15 iscritti Vi carichiamo Altri challenge Iscriviti Quasi Mi stavo uccidendo E E Si seguite il canale Se non avete ancora fatto Ciao Oh Mi stavo uccidendo Dan 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 Prende il cuore Dan 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 Io sono avuta Ciao raga Ciao raga Ciao raga